Ciao Fragoline e ciao Fragolini! Nuovo video. Allora, dato che l'altra volta ho visto che le visualizzazioni sono alte, quando ho fatto la Mystery Bots di Amazon, ho visto che molte persone piace questo genere di video. E dato che piace anche a me, allora ho deciso di fare la seconda parte della Mystery Bots, però questa volta l'ho preso da Aliexpress. E sì, come leggete dal titolo, non la prima ma la seconda volta sono stata truffata. E adesso vi faccio vedere e vi spiego il perché. Allora, in teoria dovevo ricevere... Prima che io prendevo questa Mystery Bots, c'era scritto che vincevi un telefono, ad esempio, tarocco dell'iPhone, un computer dell'Apple tarocco, un telefono della Huawei tarocco, Samsung e tutte quelle altre cose tarocche che vendono i cinesi. Ho visto le recensioni prima di comprarlo, tutte le recensioni erano positive e ovviamente c'erano anche le foto. E all'inizio ho detto, wow, cioè, prendi un telefono. Sembrava strano, perché calcolate che io l'ho pagato 20 euro, 4 euro di spedizione. E adesso aspettate che non mi ricordo quanto era il totale, ma attento adesso vi metto qua il video, la clip che ho fatto, così vi faccio vedere tutte le recensioni, vi faccio vedere praticamente tutto. Io ho salvato tutto per farvi vedere, no? Allora, costava 5 euro e 55, con 4 euro di spedizione, 4 euro qualcosa, no, 4 euro di spedizione. In totale 20 euro e 44, perché io ho preso 3 pezzi, potevi scegliere massimo 3 pezzi, 3 pezzi in senso le scatoline di 3 pezzi. Allora, questa era la pagina, se poi voi andate a vedere, c'è tutte le recensioni positive, c'è anche le foto di quello che poi ricevi. E niente, c'hanno praticamente la spedizione almeno più di 3 settimane, anche un mesetto, è arrivata. Per cui la spedizione dopo aver speso 4 euro, in teoria da due settimane che doveva arrivarmi il pacco, io ho aspettato almeno un mesetto, calcolate. Il pacco doveva essere grande, e invece mi è arrivato questo. Io all'inizio, quando mi è arrivato, ho detto, ma che cavolo è? Io non ho ordinato niente. Vado a vedere, c'è scritto Alie Express e dico, spero che non è la Mystery Bots che io avevo comprato di 20 euro. Ci sta che con 20 euro, calcolate che non prendi il telefono. Ma dovete anche capire che i cinesi sono talmente furbi che i cellulari che vendono a tarocchi, te li vendono anche a poco prezzo. Cioè, in senso, certi te li vendono a poco prezzo, certi invece te li danno a tanto, molto, il doppio del prezzo che noi vendiamo in Italia. Vabbè, io adesso vi apro, vi faccio vedere le tre cose che mi sono arrivate, perché io ne ho scelti tre, io ho speso 20 euro. Allora, diciamo che sono utili, eh, ma però mi aspettavo cose diverse, non tutti uguali. Io apro la scatola, confezione del primo pacchetto, e abbiamo altri tre pacchetti, che io ho già aperto perché non avevo capito che cos'era. Questa è la mia Mystery Bots, un'altra volta truffata. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. In questo sacchettino, impacchettato così, ho trovato le cuffie della Apple tarocche. Queste qua ormai non si usano più. Sono quelle con il gancino. Ad esempio, il mio iPhone, quello nuovo, non ha il gancio delle cuffie, ce l'ha praticamente così. Le cuffie voi le mettete come il caricatore. Invece questo, adesso vi faccio vedere, non ha la stessa cosa, ma queste le posso usare solo nell'iPhone, quello vecchio che ho io. Queste sono le cuffie che mi sono arrivate. 5 euro dai cinesi. Anche qua nei negozi, dove vado io, nei cinesi, questa scatola costa 5 euro, perché ormai è vecchia questa scatola. Cioè, queste cuffie sono vecchie. Per cui adesso le apriamo insieme e vi faccio vedere. Comunque, questa è la prima cosa che mi è arrivata. Allora, dov'è? le apriamo insieme a voi, perché così meno vi... Queste sono le cuffie. Ah, questo è anche duro. Bene. Vabbè. Vi faccio vedere. Allora, sì, sono utili, perché 20 euro non le ho spesi così, alla cavolo. Diciamo che sono spesi bene. Ma, almeno, non dire che mi dai il telefono, se poi non me lo dai, perché io ho ricevuto queste cuffie che questo non si... lo posso mettere praticamente solo al computer, per farvi capire. Non sono originali, sono tarocche, perché voi, quando comprate queste cose, dove deve esserci un marchio. Io adesso non ho la confezione qua delle... come che si chiama? Delle cuffie, perché credo che l'ho buttata. Però poi vi farò vedere, se riesco a trovarla, le originali, cuffie originali, quanto le cuffie tarocche, per farvi capire di quanto costano e di quanto sono i forbici cinesi. Per cui, dietro ci doveva essere un codice. Ah, non c'è. queste sono cuffiette che mi sono arrivate. Vi faccio vedere l'altro pacchettino. Scusate se dura tanto sto video, però volevo farvi farvi rendere conto quando uno spende una cosa e poi si ritrova le cagate. Secondo pacchettino, ho trovato questo cavo dell'iPhone. sempre tarocco, perché giustamente è cinese. Allora, il cavo originale dell'iPhone costa più di 24 euro. Per cui, se io adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere sull'applicazione vera dell'Apple, vi faccio vedere che questo cavo costa molto di più. Allora, vediamo dov'è. Ah, le cuffie, no, le cuffie non esistono più per farvi capire. Perché ci sono quelle vecchie. Ah, no! No, ci sono quelle vecchie. Calcolate che quelle lì sono vecchissime e adesso costeranno neanche 5 euro. Quelle nuove costano più di 200 euro per farvi capire. ma queste qua sono nuove, sono così. Invece, il cavo che adesso non so dove, forse qua dove c'è l'iPhone vi faccio vedere il cavo se riesco a trovarlo. Ok? Se c'è ancora perché giustamente ok. Questo è di un metro costa 25 euro originale. 25 euro originale. Questo è tarocco lo trovi anche a 10 euro per farvi capire. Adesso non mi ricordo quanto quanto costa ma poi lo andrò a vedere e poi ve lo dirò. Dai cinesi, questo è il cavo originale. Beh, non sono male in senso che sì, non me ne frega se sono tarocchi o no. Però adesso vi farò vedere anche il secondo pacchetto per cui io dico va bene cuffie, cavo, ci sta perché mi servono e le posso usare. Anzi, per fortuna adesso ho il computer quello vecchio che riesco a utilizzare le cuffie perché hanno quell'attacco. Se no le cuffie non sapevo neanche come utilizzarle perché il mio iPhone nuovo non puoi utilizzare le cuffie vecchie. Invece il cavo lo puoi utilizzare perché va bene per diciamo per l'iPhone normale perché è fatto così. Adesso lo apriamo così almeno ve lo faccio vedere. Però ci sono rimasta un po' delusa perché 20 euro tre pezzi ok che non posso pretendere chissà quanto però un po' l'onestà ci vuole. Questo è il cavetto. dell'iPhone che ovviamente si attacca e va bene. Però calcolate che se per caso non andava bene 20 euro erano buttati. Secondo pacchettino cioè terzo pacchettino scusate vi faccio vedere lo stessa la stessa cosa che mi è arrivata. Però se voi calcolate è diverso in senso che la scatola è completamente diversa. Cioè guardate anche la scritta diverse perché mi devi spedire una cosa uguale se me l'avevi già spedita a meno dammi un'altra cosa diversa. Allora dico che ci sta non è una truffa. Ma voi che mi date due cose uguali dopo che io ho speso 20 euro non ci sto. Questa è la seconda che adesso valutiamo se è uguale però la scatola è completamente diversa. Cambia solo il nome e il cavo in teoria è uguale perché è uguale. Queste sono le cose che ho ricevuto Mystery Bots sinceramente sono rimasta un po' un po' delusa. perché come cioè quello che dico io no se tu mi invii qualcosa inviamolo diverso non uguale perché io potevo ricevere anche tre cuffie uguali e tu mi prendi i fondelli. Allora ci sta che con 20 euro puoi trovare queste cose perché dici vabbè puoi superare i 20 euro può stare dentro i 20 euro ci sta però una Mystery Bots vuol dire che tu hai tante cose che ti inviano perché io mi domando se io spendo 70 euro e mi ritrovo due cose uguali e meno prodotti da che tu mi spedisci e io ho speso 70 euro ma a me girano le palline per farvi rendere conto cioè per quello che io ho speso 20 euro perché ho detto proviamo perché ah vi dico anche questo quando mi è arrivato il pacco no dopo neanche 5 minuti il profilo di questo è sparito non c'è più voi adesso ve lo farò ve lo faccio vedere nelle clip qua vicino o ve lo ho fatto vedere prima non lo so io ci ho cliccato sopra perché volevo mandargli un messaggio che poi era inglese questo non era neanche italiano dicendo ma scusa che presa per i fondelli è se tu mi invii due cose uguali ma almeno invia almeno tre cose diverse e spendo 20 euro giusti che poi ho speso sì 5 euro ma 4 euro di spedizione per cui avendo speso 4 euro di spedizione e 16 euro adesso non mi ricordo se erano tre oggetti da spendere 5-5 oppure però io mi domando sono sempre 20 euro per me perché sono cioè lavori non è che non fai niente ma almeno l'onestà perché tutti quei quelle recensioni che vi ho fatto vedere sono tutte false non sono neanche vere l'unica vera recensione è quella di un italiano o due italiani dove loro hanno ricevuto la stessa cosa che ho ricevuto io e anche loro hanno scritto che sono state truffati perché questa è una truffa ci sta che puoi superare i 20 euro però non puoi neanche fare una mystery box così perché io ho visto altre persone che hanno fatto una mystery box e hanno trovato cose tante cose un po' cagatine ma hanno trovato tantissime cose e hanno speso 20 euro ovviamente non cioè avevo intenzione di spendere 70 euro però poi ho pensato sì e se mi inculano ancora cosa fai? cioè io poi dopo ho speso 70 euro per niente e i soldi sono soldi per cui io queste cose a me piacciono però sinceramente questa volta è la seconda volta che mi hanno truffato dato che ho deciso che non voglio ovviamente spendere soldi così allora se ovviamente questo video supera un tot di visualizzazione tanti like eccetera più commenti ovviamente farò la terza puntata della mystery box ma questa volta non lo prendo su internet ma ho deciso di farmelo regalare da un mio amico o dal mio fidanzato per cui il mio amico mi farà una mystery box del sud ad esempio io darò un budget a lui che ne so 50 euro e lui con 50 euro mi deve fare lo scatolone mettere tutte le cose dentro lo scatolone così io non so che cosa sono lui me lo spedisce perché ovviamente non abita qua vicino a me me lo spedisce e poi faremo questo video della mystery box del mio amico che mi fa questa mystery box oppure anche il mio compagno il mio fidanzato gli ho chiesto se mi faceva lui una mystery box io gli davo che ne so altri 50 euro e lui con 50 euro di budget mi comprava le cose me la metteva nella scatola e poi vi facevo vedere questa mystery box di quello che ha comprato lui senza che io sa so di quello che mi prende in poche parole secondo me è meglio fare così perché se tutte le volte devo comprare su Amazon Aliexpress Wish o altri o altri siti che poi dopo prendono per i fondellini e non trovi quello che diciamo non quello che vuoi ma almeno tante cose e come si deve sinceramente è meglio invece così ho fatto tutt'altra cosa e ho speso 20 euro per niente perché io con 20 euro mi compravo più di 5 cuffie e altri anche altri tanti cavi così perché calcolate che dai cinesi costano anche 2 euro queste cose non è che ti costano chissà cosa anche le cuffie ti costano di meno poi in un vlog vi farò vedere quanto costano però sono stata proprio senza parole e niente ovviamente vi dico anche che i commenti negativi andranno fuori in senso cancellati non starò neanche a stare lì a parlare a scrivere sotto che voi avete ragione eccetera perché non avete ragione per cui dato che non sono l'unica che ha detto che sono stata truffata ma questo qua se è cancellato ha cancellato il profilo neanche ti ha cagato e in più volevo che mi ridava indietro i soldi io gli spedivo queste cose qua ma se è cancellato non hai più voto diciamo risposte tantomeno non puoi neanche dire ho provato a fare una controversa ma Aliexpress giustamente dice il pacco l'hai ricevuto se non hai niente allora è inutile che ti ridiamo indietro i soldi e la stessa cosa vale per quel ragazzo signore ragazzo non so chi è che ha truffato c'è anche io potrei fare così allora compro le cose dai cinesi li vendo su Amazon o li vendo su su Aliexpress faccio una mystery box gli dico allora io metto queste dentro queste cose qua e tu lo paghi che non so 20 euro intanto però io ci ho guadagnato tu ci hai smenato per farvi capire per cui potrei farle anche io queste cose sinceramente vabbè allora dato che il video è durato fin troppo vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale lasciarmi un like un commentino qua sotto e seguitemi su Instagram che lì sapete tutte le cose che mi arrivano le cose che faccio eccetera che qua su YouTube non metto diciamo quasi mai dato che all'inizio del video non ve l'ho detto ve lo dico a fine video così almeno mi ricordo niente fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa cosa qua e della seconda volta che mi hanno truffato vi dico che i commenti brutti i commenti che non non hanno senso di stare sotto nel mio video vi dico già che verranno cancellati non scriverò a nessuno se il commento non mi piace io non scriverò più a nessuno li cancello e basta per cui e se continuate a scrivere ancora io vi blocco avvisati per cui scrivete un commento giusto e tantomeno non commenti come l'altro video della mystery bots però sei stata fortunata non ti hanno truffato perché è giusto i soldi che no no vi dico solo che il video precedente che avevo fatto alla mystery bots tutto quello che ho trovato dentro che erano due cose adesso mi ricordo le cuffie e l'orologio vi assicuro che quelle cose lì dopo neanche due mesi si sono rotte perché erano cinesi dopo due mesi mi si sono rotte cuffie e orologio per cui io ho speso 40 euro per niente perché dopo due mesi mi si sono rotte tutte quelle due cose figuriamoci queste tre questo per farvi capire per cui non mi scrivete sotto nei commenti eh ma i 20 euro è giusto perché quelli costano 20 euro no proprio no perché la qualità non è ottima non sono originali io vi ho fatto vedere quelli originali sulla apple che costano più di 25 euro questi non costano 25 euro sono fasulli io ho questo questo cavo qua in Thailandia me l'hanno fatto pagare 10 euro perché? perché hanno visto che ero italiana se no me lo facciano pagare anche 3 euro per farvi capire vabbè detto questo prima che mi parlo troppo noi ci vediamo al prossimo video e aspetto qua i vostri commenti di quello che pensate ciao ciao